La legge di bilancio 2023 introduce una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione da gennaio 2000 a giugno 2022. In particolare, la disposizione prevede la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti scritti al ruolo senza corrispondere alle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora o il cosiddetto agio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi o comunque a somme maturate a titolo di agio. Per usufruire della definizione agevolata entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. È possibile pagare gli importi in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un numero massimo di 18 rate, di cui le prime due coscadenze il 31 luglio e il 30 novembre 2023. In caso di omesso, ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerate a titolo di acconto sulle somme dovute. Infine, non rientrano nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di cariche esclusi in ragione della loro natura, fra cui il recupero degli aiuti di Stato considerati legittimi dall'Unione Europea, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Grazie a tutti.